Nelle prime ore della mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, hanno eseguito nelle province di Salerno ed Avellino un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone per una frode da oltre un milione di euro commessa mediante la clonazione ed il successivo utilizzo di migliaia di carte di credito. I reati contestati sono quelli previsti dal Codice Penale agli articoli 416, associazione per delinquere, indebito e utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, sostituzione di persona, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. Nello specifico i finanzieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Ciro Sandino e coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno notificato il provvedimento che dispone l'arresto in carcere a due uomini residenti nella provincia di Avellino e ad un uomo residente nella provincia di Salerno ed hanno perquisito le abitazioni di altre dieci persone, pur esse indagate a vario titolo per la medesima frode, sequestrandone i conti correnti, un'imbarcazione e tre autovetture di pregio per un importo complessivo superiore ad un milione di euro. Tra queste ultime una fiammante Ferrari California Cabrio del 2009 del valore di 130 mila euro. L'attività investigativa è iniziata nel 2018 con l'esecuzione di pedinamenti, analisi dei flussi finanziari, intercettazioni telefoniche ed indagini bancarie delegate della Procura Valdese, ha permesso di individuare e disarticolare un sodalizio criminale ideato dagli uomini dediti alla clonazione di carte di credito attraverso svariate attività di piscine telefonico e di hackeraggio per ottenere fraudolentemente i dati personali e bancari dei titolari delle carte. Le indagini hanno inoltre consentito alle fiamme gialle agropolesi di delineare il ruolo di ciascun soggetto all'interno dell'organizzazione criminale.